Una padronanza dei mezzi moderni. Una parola sul titolo. La rivoluzione della luna è il titolo di un romanzo di Camilleri. Camilleri, oltre al gusto di Montalbano che forse tutti conoscete, è stato anche uno scrittore che amava moltissimo gli archivi. E scovava negli archivi e ne treva fuori dei romanzi storici con anche dei giochi linguistici straordinari. La rivoluzione della luna è un suo romanzo basato sulla ricerca d'archivio e la storia è questa. Nel 1677 muore il vicere della Sicilia e il trono, il posto di vicere, viene attribuito a sua moglie. Giovanna, io non sono sicura, mi senti? Mi sentite? Perfettamente, Marta. Scusate, continuo perché mi era scomparso tutto dal video fuori che me stessa. Allora, questa vicere donna, la vedova, molto energica, molto creativa, nel giro di 28 giorni, dunque, la luna, la settimana del maestro femminile, ha portato una straordinaria innovazione in tutto, i rapporti sociali, i rapporti con i poveri, la trasparenza, il ruolo delle donne. Insomma, ha fatto una rivoluzione che poi non andava bene alla corte di Madrid, non andava bene alla chiesa ed è stata detronizzata. Ecco, quello che noi, al quale stiamo assistendo in questo momento, è una rivoluzione femminile della luna, nel senso luna, la donna. Speriamo che la durata non sia quella di 28 giorni. Il pretesto per questo movimento, che è scoppiato così all'improvviso, è la decisione della sentenza della Corte Costituzionale di vietare interamente l'aborto in Polonia. Già la legge esistente era una legge molto restrittiva e questo vieta completamente l'aborto, interamente, anche in caso di stupro, incesto, violenza di altri tipi, ma anche in caso di malformazioni gravi e la morte inevitabile del nascituro. Dunque, totale divieto dell'aborto. Questa non è ancora legge, perché per questo deve essere pubblicata su Gazzetta Ufficiale ed è questa la grande tensione, se sarà o non sarà pubblicata. Stanno, diciamo, i poteri, le autorità stanno chiaramente rimandando questa pubblicazione. La Corte Costituzionale Costituzionale l'ha votato come l'aborto che è contrario alle fondamenta della Costituzione. C'è dunque fondamenta della Costituzione che già includono i valori cristiani nel preambolo, questa è una nuova Costituzione, è anche quella che si spinge di considerare l'aborto come nemmeno un privilegio, come una violazione delle fondamenta costituzionali. Il movimento sembra scoppiato all'improvviso perché in realtà si sa molto poco del movimento femministo e del movimento delle donne in Polonia. Si sa molto poco perché questo movimento moderno, diciamo, del femminismo moderno, quello che conosciamo negli Stati Uniti dalla fine degli anni 50, negli anni 60, che in Europa occidentale, ma non solo, anche in parti dell'Europa centrale, orientale, come allora la Cecoslovacchia, comunque questo movimento che si è diffuso moltissimo in Europa negli anni 70, non aveva toccato la Polonia. E questo Giovanna mi ha chiesto di dare, come dire, uno sfondo storico, io mi permetto di dare uno sfondo storico un po' più lungo. Cioè la Polonia, che forse avete tutti e tutte studiato a scuola in una di queste, insomma, lezioni noiose, la Polonia era uno stato fino alla fine del Settecento, uno stato molto grosso dell'Europa centrale, Europa centrale e anche l'Europa orientale, uno stato grande, uno stato importante e uno stato che per la sua storia, dunque per anche la pratica, dunque, era uno stato multiculturale, era uno stato tradizionalmente molto tollerante e uno stato molto accogliente. Questo significava che si parlava in questo stato diverse lingue, anche se la lingua ufficiale era la lingua polacca, che in questo stato coesistevano, che abitavano diverse fedi religiose. Una grossissima percentuale degli ebrei, grazie proprio a questa lunga tradizione dell'accoglienza, si insediavano in Polonia gli ebrei che fuggivano dalle persecuzioni dalla Germania, dall'Inghilterra e poi dopo l'espulsione dalla Spagna e dai regni spagnoli, anche da quella parte dell'Europa. C'erano dei protestanti che erano rifugiati in massa in Polonia durante le guerre della religione e delle religioni del Seicento, c'erano dei tartari di Crimea, un insediamento musulmano molto vecchio, non immigrazioni recenti, uno stato estremamente tollerante. Con la perdita dell'indipendenza, le spartizioni della Polonia e la successiva articolazione di questa perdita di indipendenza, la Polonia fu spartita tra la Prussia, l'Austria e la Russia, cioè tre imperi, ciascuno di loro aveva un'aquila nera o più di un'aquila nera nel suo stemma. e dunque mangiata da questi uccelli rapaci. L'Ottocento polaco, cioè la lunga storia dell'assenza di sovranità e le persecuzioni dell'essere polaco, cioè dunque della lingua, della cultura, della tradizione, della fede, hanno prodotto una storia di 150 anni di insurrezioni, della resistenza tenace a questa denazionalizzazione con tutte le storie romantiche, insomma queste grandi insurrezioni, le grandi emigrazioni, insomma una storia che è fatta di nazione martirio. Ma quello che voglio sottolineare è che il perno di questa costruzione mitica della sopravvivenza e resistenza era la donna, ovvero madre polacca. Madre polacca si scrive con la M maiuscola e la P maiuscola, è il perno di questa storia. La donna è relegata in questo periodo, è relegata a casa perché la casa è il fulcro della sopravvivenza della nazione, di tutto quello che la nazione può significare, la polacicità. La polacicità può sembrare simile a quella emergere della sfera femminile come sfera separata da quella privata, la pubblica, la sfera femminile nel periodo vittoriano in Gran Bretagna, però è molto più carica quella polacca perché nella sfera privata si combatte la principale battaglia e dunque la madre polacca è la donna e la donna ha il dovere di educare i figli, soprattutto le figlie femmine, educarle a essere madri polacche, i figli maschi educarli a essere soldati in tutte queste insurrezioni, c'è praticamente l'educazione al martirio. In questa sopravvivenza, questa lotta per la sopravvivenza, parliamo qui di quasi 150 anni, parliamo qui di diverse generazioni e dunque diventa proprio la storia, in tutta questa storia l'aleato principale di questa polacicità diventa la chiesa cattolica e dunque nel corso dell'Ottocento si emerge una definizione dei polacchi che è una definizione esclusiva, che magari non si nota quando si vede l'aspetto romantico di tutta questa cosa, ma è una definizione escludente. Il polacco è cattolico e a momenti anche il cattolicesimo è soprattutto polacco. Questa dunque definisce il ruolo della donna polacca ed è un piedistallo, perché indubbiamente la madre polaca è piazzata sul piedistallo, ma è anche, come potete facilmente immaginare, è una tremenda trappola. Per non farla eccessivamente lunga, questo è cambiato alla fine della seconda guerra mondiale e l'istituzione, insomma la presa di potere dei comunisti, l'entrata della Polonia nel blocco sovietico, insomma la questione di pochi anni, l'inizio della guerra fredda, l'isolamento e in tutto questo però il regime comunista ha portato ovviamente le riforme, dei cambiamenti nel senso di emancipazione della donna, nel senso dell'ingresso massiccio della donna nel mondo del lavoro e nel senso del discorso sui diritti delle donne che da una parte sono una realtà, cioè i regolamenti nelle assunzioni ai posti di lavoro, accessi a diversi posti di lavoro, accessi all'università, massicci accessi a medicina, a ingegneria, cioè dei ruoli professionali tradizionalmente appartenenti alla sfera maschile, ma nello stesso tempo tutti questi diritti esistevano, venivano portati avanti dalle organizzazioni che era soprattutto la lega delle donne, ma anche altre organizzazioni simili che erano tutte organizzazioni del regime e devo dire che le donne polacche non era facile sotto il regime perché malgrado che esistessero degli asili nido diffusi delle scuole materne eccetera, le donne facevano il classico, facevano il doppio lavoro, cioè otto ore in fabbrica o in ufficio o dove che era e poi tutta la gestione della vita familiare perché questo non era accompagnato all'educazione dei maschi, i maschi erano sempre lì in attesa diciamo di una nuova insurrezione, di una qualche nuova eroica battaglia e dunque quando arrivano gli ecchi del femminismo occidentale le donne polacche non sono molto disposte a farne la causa propria. Era come dire noi le leghe delle donne le conosciamo già, le organizzazioni femminili le conosciamo già, sono tutte organizzazioni del regime, noi come grande popolazione femminile non ne vogliamo sapere niente. Questo c'è ancora un step parallelo, la chiesa cattolica che ha acquisito con questa definizione polacco-cattolico ha acquisito un ruolo sociale morale, di guida morale, di guida sociale nel corso dell'ottocento. Nel periodo poi anche insomma un po' contestato, anzi fortemente contestato nel periodo tra le due guerre, ma di nuovo durante il periodo comunista dove la maggioranza della popolazione certamente non era comunista e non era favorevole al regime comunista anche se apprezzava dei vantaggi del tipo sociale che ne venivano, ma questa magari un'altra conversazione. La chiesa cattolica serviva come depositaria di resistenza anche durante tutto il periodo comunista. Quando nasce il movimento di solidarno, nel 1980 nel 1980, le donne, e voglio anche insomma pochi, voi non lo potete ricordare però magari le vostre professoresse sì, quando nasce il movimento di solidarno e cominciano i negoziati con il potere, sono le operai delle fabbriche tessili di Ucci e sono operai perché i tessili tradizionalmente il settore fortemente femminizzato a livello operaio, sono le operai di Ucci, le operai tessili, di queste grandi fabbriche tessili che dicono noi non vogliamo i delegati, noi siamo tutti i delegati, cioè spingono a radicalizzare nel senso democratico diffuso, di democrazia diretta diciamo in quel periodo, il movimento di solidarno. E molte donne in quel momento soppongono il problema dei diritti delle donne. I diritti delle donne in quel momento non sono l'aborto perché l'aborto sotto il comunismo era legale ed era facilmente accessibile, ma è un aborto più assistito, un aborto con più diritti e in generale più diritti delle donne. E i nostri grandi e straordinari leader di solidarno, tanto diciamo quelli tradizionalisti come Valenza che quelli più aperti hanno sostanzialmente risposto voi avete ragione, dobbiamo senz'altro farlo, ma ora abbiamo dei compiti più gravosi, dobbiamo cambiare l'orientamento dello Stato. Quel che emerge poi dopo la legge marziale che è durata tra una cosa e l'altra è durato per 8-9 anni, dopo l'89, cioè dopo diciamo il rovesciamento del potere dopo una vera rivoluzione politica, i nuovi governi che emergono, che sono i governi che vengono da solidarno, fanno un'alleanza ancora più serrata con la Chiesa. La Chiesa Polacca, che nell'Ottocento aveva diversi meriti, la Chiesa Polacca della fine del ventesimo secolo, dell'inizio del ventunesimo secolo, è la più retrograda che credo si conosca nel mondo. Ovviamente in questo ruolo crescente della Chiesa Polacca ha avuto un ruolo il fatto che allora, nel momento diciamo di queste rivoluzioni, il Papa era polacco e dunque per i cattolici polacchi era già un santo ancora prima che lo fosse dichiarato ufficialmente dopo la sua morte. La Chiesa, questa Chiesa retrograda, ha cominciato a dettare i propri termini e dunque l'aborto è diventato, non è l'unico campo di battaglia, quando ho detto prima che la Corte Costituzionale ha passato questa sentenza assolutamente assurda e perché la Corte Costituzionale era già stata rimaneggiata dal partito che è al potere da quattro anni e che appena ha avuto confermato anche la presidenza della Polonia, comunque il partito che era già cresciuto in importanza, che si chiama Pravo i Spravigliari, Legge e Giustizia, che è un partito potremmo dire in breve populista, estremamente nazionalista, sovranista, abbastanza razzista e che si avvia a una forma di fascismo e lo dico conoscendo la storia del fascismo, una forma del fascismo tipo quella spagnola del generalissimo Francisco Franco, cioè quello che punta molto sulla fede cattolica, la famiglia e il ruolo del maschio, il ruolo del padre, il capo e il padre, è certo anche un duce ma soprattutto un padre. Un campo di battaglia molto importante comunque è quello del aborto, la legge sull'aborto è stata rimaneggiata praticamente subito dopo l'arrivo dell'opposizione al potere, cioè prima ancora di questo partito dei gemelli Kaczynski di cui sopravvive solo uno dei gemelli Jaroslav, peraltro con i quali sono andata a scuola, con tutte e due sono andata a scuola, dunque me li ricordo da sempre. Allora l'accesso all'aborto è stato ristretto in cosiddetto compromesso del 1993 e da allora crescono questi movimenti che vogliono vietare l'aborto completamente. C'è stato qualche anno fa, questo ve lo ricordate forse nel 2016, c'è stato un tentativo di postare la legge che restringe l'aborto e allora per la prima volta le donne giovani sono uscite sulle strade, sottolino giovani perché la mia generazione sono già anni che protesta contro quelle limitazioni delle leggi, contro la politica verso gli immigrati, contro la politica della riscrittura della storia, contro tutte queste leggi del carattere reazionario, proprio per far tornare indietro a un passato mitico la la configurazione legislativa, dunque anche sociale della Polonia, la mia generazione è uscita sulle strade già da tempo e notavamo che la presenza, cioè che ci riconoscevamo più o meno tutti, cioè la presenza dei giovani era praticamente inesistente e quei giovani che c'erano erano quelli che erano i figli degli ex combattenti per la libertà e dunque si sentivano in qualche maniera coinvolti. Invece quattro anni fa in quella che si chiamavano gli scioperi dei venerdì neri o anche la rivoluzione degli ombrelli perché il primo lunedì che era successo pioveva dirotto e dunque tutte le donne sono uscite per le strade con gli ombrelli, ecco questa è la prima volta che le donne sono in massa uscite sulle strade, le donne giovani hanno detto no e la proposta di legge è stata ritirata, è stata ed è riapparsa ora attraverso una specie di piccolo colpo di stato, cioè farla passare dal Tribunale Costituzionale prima e poi registrarla come legge perché una legge costituzionale è già legge. Dunque questa protesta è una protesta che riguarda l'aborto però così come in tutte quelle insurrezioni polacche di cui potremmo elencare tante, ogni volta che nasceva un movimento con uno scopo diventava un movimento globale e così è stato anche con Solidarno, cioè non era solo la registrazione dei sindicati indipendenti, non era solo le conquiste operaie, è diventato un movimento travolgente e globale. La stessa cosa sta succedendo ora, questo grandissimo movimento, Zusa prima diceva ci sono i tassisti, i tramvieri, gli autobus e tutto questo linguaggio di cui poi magari avremo occasione di parlare perché è veramente straordinario come un linguaggio scurile diventa completamente liberatorio e accettato dalle nonnine che partecipano sulle sedie a rotelle in queste manifestazioni. Comunque il movimento è diventato un movimento globale che chiede tutto, chiede che si finisca con il predominio della chiesa, si chiede di punire i preti pedofili, si chiede di riformare la scuola, si chiede di riformare l'educazione, si chiede la sanità, si chiede che questo governo e questo partito se ne vadano, si tolgano dai coglioni o vadano a fanculo, questi sono gli slogan, ve pierdallage, ve pierdallage, ve pierdallage. Quello che rischiamo in questo è che si perda la specificità del aborto e delle rivendicazioni delle donne, cioè che di nuovo, come è già successo con Solidarno, come è successo tante volte prima, le rivendicazioni delle donne diventino una parte delle rivendicazioni generali e che poi nelle mediazioni si rinvierà questa cosa un'altra volta. Adesso anche degli slogan così molto divertenti, tipo questi cartelli che dicono ci scusiamo per il disturbo ma dobbiamo rovesciare un governo, abbiamo un governo da rovesciare e centinaia di altre che sono molto molto divertenti, molto creative, però si perde lì la centralità di queste domande, cioè la centralità di questa causa che è quella del aborto. Poi magari sulle prospettive, ritorno dopo perché mi sembra che ho già parlato troppo a lungo, allora. Grazie Marta, io darei subito la parola a Susanna in modo che alla fine magari possiamo raccogliere delle domande, delle riflessioni, dei suggerimenti eccetera. Grazie Susanna e grazie Marta. Io vorrei solamente ricollegarmi a questa storia più recente delle proteste, solo per dare anche importanza alla nascita di questo movimento sciopero nazionale delle donne che ormai è diventata un'organizzazione con la sigla in polacco OSK, che la prima protesta, quella nell'aprile 2016, io dico la prima protesta perché anche la prima protesta alla quale ho partecipato ed è stato per molti della mia generazione, è stata anche una delle prime proteste veramente sentite, perché da un anno era al governo, la questione dell'aborto non è stata toccata quasi mai dal 93, non se ne parlava, era tipo una questione che stava ognuno come se avesse paura di toccarla, anche per la paura di perdere i consensi, per infuriare la chiesa. Dunque era una questione che se ne stava su uno scaffale e doveva stare lì. Poi nel 2015 arriva al governo il partito PIS, dunque il diritto e giustizia, che è tutt'altro che diritto e giustizia, e infatti uno dei primi progetti è quello di accettare nel Parlamento di discutere di un progetto scritto da due fondazioni, Pro Diritto alla Vita e Ordo Iuris, che sono due fondazioni e organizzazioni cosiddette Pro Life, che poi è questa parola che odio di più, come se, insomma, si fa bene, Pro Life. E in aprile 2016 nasce la prima protesta contro questi progetti, all'epoca organizzata da un gruppo di ragazze che si sono chiamate, una con l'altra, su Facebook, ragazzacce per ragazzacce. E la prima protesta è in aprile e poi il progetto non passa, non passa, non diventa legge. In settembre dello stesso anno, 2016, un nuovo progetto, stavolta di nuovo, questa volta di Ordo Iuris, e un'attrice molto famosa, polacca, Cristina Janda, che in Italia è forse conosciuta grazie ai film di Andrzej Vajda, L'Uomo di Marmo, e anche recentemente da un film dolce, Fine Giornata, propone su Facebook, scrive un appello, e perché non facciamo uno sciopero, come le donne in Islanda nel 74, e vediamo se il paese può reggere senza le donne. L'idea viene colta al volo da Marta Lempart e le sue amiche, Marta Lempart che adesso è a capo dello sciopero nazionale delle donne di questa organizzazione. E il 3 ottobre organizza lo sciopero delle donne, al quale partecipano 98.000 per le strade, questa rivoluzione degli ombrelli, protesta nera, il simbolo è quello di sempre, nasce lì quel profilo di donna stilizzato ideato da una grafica polacca o la Yashinowska, che poi durante il lockdown è diventato lo stesso profilo però con la mascherina, e adesso è con il fulmine rosso. Il progetto viene votato nel Parlamento, viene rigettato, però nessuno sapeva che la storia finiva lì, perché qualche giorno dopo, il 12 ottobre, Kaczynski, dunque al capo del PIS, in un'intervista a Repubblica, dice, e adesso cito, dice, cercheremo di fare di tutto perché anche i casi delle gravidanze più complicate, quando il bambino è destinato alla morte, molto mal formato, finiscano con il parto per poter permettere il battesimo e la sepoltura. Perciò non sorprende nessuno che qualche mese dopo, nel 2018, viene proposto un nuovo progetto di legge, viene organizzato venerdì nero, già dallo sciopero nazionale delle donne, poi viene anche presentato per la prima volta un progetto a favore dell'aborto, Salviamo le donne, che però non passa alla prima lettura per soli otto voti. E questi otto voti sono molto problematici, perché erano anche i voti del partito dell'opposizione, che avrebbe dovuto votare a favore. E le giustificazioni dei politici erano tremende, per esempio una ha detto che non sapevo che il mio voto contasse, e l'altro che non ho capito la domanda. La questione dell'aborto sta sempre dormendo, sta sempre lì sotto la superficie, e nel pieno lockdown, aprile 2020, viene presentato un nuovo progetto Pro-Life, con divieto totale dell'aborto e della diagnosi prenatale, perché ovviamente se c'è un divieto totale dell'aborto, non ha senso fare la diagnosi prenatale. E vengono organizzate tutte le manifestazioni, nel pieno lockdown e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Si blocca il traffico, ogni donna in macchina, solamente con i manifesti, con gli striscioni attaccati alla macchina, se protestano per le strade, ci sono due metri, un metro di distanza da una all'altra. Il progetto viene rigettato. E nei mesi, quelli che separano aprile e ottobre di quest'anno, succedono tante cose. Cioè, la gestione della pandemia non è il punto forte del governo, dunque deve trovare un capro espiatorio. E il capro espiatorio diventa, nei mesi fra giugno e agosto, diventano gli ambienti e le persone cosiddette ideologie LGBTQ. Perciò sono state organizzate anche sempre tante manifestazioni a favore, ma è sempre anche per sviare attenzione dalla gestione del governo. E poi dal nulla, il 22 ottobre, ma veramente dal nulla, che nessuno se lo aspettava, sentenza della Corte Costituzionale. Corte Costituzionale, politicizzata e al servizio del governo. Cioè, aborto terapeutico viene all'improvviso dopo 27 anni considerato incostituzionale. L'aborto terapeutico che è quello che di 95% dei casi della procedura dell'aborto in Polonia. Dunque alla fine viene vietato proprio l'aborto, cioè quello delle procedure legali. e l'argomento della Corte, quello che mi ha fatto veramente piangere, mi ha fatto male, era quello che uno dei giudici ha detto che non ci sono prove dell'influenza negativa sulla psichica della madre e del padre nel caso della morte dovuta alla malformazione. Cioè, le parole che non so come un giudice possa pronunciare, come un essere umano possa pronunciare queste parole. Probabilmente questa decisione, questa sentenza della Corte Costituzionale durante la pandemia doveva fermare le persone. cioè non potete protestare, c'è la pandemia, non potete uscire per le strade perché c'è il massimo di persone che si possono assembrare, sono cinque o sei. Dunque di sicuro siamo tranquilli, non potete uscire, non potete protestare, adesso risolviamo una volta per tutte la questione dell'aborto. Però la rabbia contro il verdetto prevale sulla paura del contagio, prevale anche sulla paura di essere denunciato, perché alla fine, visto che il governo non ha mai introdotto lo stato di emergenza, la libertà di assembramento e il diritto alla protesta vige sempre. Dunque questo è sempre costituzionale. Subito dopo la sentenza lo sciopero nazionale delle donne si attiva. Le prime proteste sono già il 27 ottobre con 13 mila partecipanti, 26 ottobre blocchi stradali alle quali hanno partecipato 150 città con 250 mila manifestanti a Varsavia, 60 mila a Breslavia. Dalla parte delle donne si schierano medici per la prima volta anche in modo ufficiale che vengono, per esempio, ci sono le guardie mediche che adesso partecipano alle manifestazioni e vengono durante le loro ore libere, cioè nel senso dopo i turni all'ospedale vengono comunque ad assistere durante le manifestazioni. Ci sono lì agricoltori, perché in alcuni paesini sono usciti agricoltori sui trattori a protestare con le donne, minatori, alcuni tifosi, alcuni solamente, alcuni tifosi che il loro motto è sempre quello di proteggere la loro donna, dunque ci sono anche i tifosi di Varsavia, per esempio, e diversi sindaci, per esempio il sindaco di Varsavia, la sindaca di Ucci e il sindaco di Poznan, che durante lo sciopero quello delle donne nazionali del 28, del mercoledì scorso, cioè le impiegate al comune non si dovevano presentare al lavoro, erano, cioè potevano andare tranquillamente a manifestare. E anche si schiera a favore delle donne, come sempre, Olga Tokarciuk, Olga Tokarciuk, il premio Nobel per la letteratura dell'anno scorso, e vi vorrei leggere solamente le sue parole, infatti, a favore delle donne, che sono bellissime. Il fondamentalismo religioso portava con sé sempre soltanto sofferenze, torture e morte, lo sappiamo dalla storia. Vi ricordate la prova dell'acqua? La donna sospettata di esercitare magia veniva legata e buttata in acqua. Se riusciva a salvarsi, era colpevole per il tribunale. Se affogava, invece, il tribunale la considerava innocente e riconquistava il rispetto. E' simile anche oggi. Solo le donne condannate a partorire bambini malformati e o incapaci di vivere sarebbero senza colpe e degni di rispetto. Il governo ha impigliato lo Stato polacco nella legge inquisitoria. E' l'ennesimo esempio della guerra condotta da secoli dal patriarcato contro le donne, stavolta sotto il pretesto della protezione della vita. L'odio ossessivo nei confronti delle donne, del loro corpo, il bisogno compulsivo di controllare la loro sessualità e la loro capacità riproduttiva deriva dalla propria intuita debolezza. Il patriarcato è un colosso dai piedi di argilla. Non ingagniamoci, quel sistema userà in modo cinico ogni momento di crisi, guerra, epidemia, per far tornare le donne in cucina chieso presso la culla. I diritti delle donne non sono dati una volta per tutte. Li dobbiamo proteggere come ogni conquista che amplifica il campo delle libertà civili e della dignità umana. Da oggi tutti siamo guerrieri. Poi, ecco, poi la cosa anche tremenda che è successa è che la domenica scorsa Kaczynski ha fatto un appello stavolta, visto che probabilmente è in quarantena se non sbaglio, ha fatto un appello su Facebook per la difesa delle chiese perché ci sono state le donne per esempio a Poznan che sono andate a protestare nelle chiese a interrompere le messe. Non ci sono stati atti di vandalismo di cui parlava di parlava Kaczynski ma lui ha fatto questo appello per la difesa delle chiese scatenando anche infatti l'ira dei nazionalisti che si sono messi a difendere le chiese però le manifestanti sono state molto sagge durante le ultime manifestazioni a evitare proprio le chiese e andare lontano dalle parti dai posti dove infatti c'erano assembrati sia la polizia sia la gendarmeria militare che proteggeva le chiese invece di proteggere le donne in un'intervista al manifesto Marta Lempart dunque la capa dello sciopero ha detto che le polacche sono decisamente in favore della liberalizzazione dell'aborto non chiediamo nulla di più e nulla di meno di quello che è concesso a tutte le cittadine negli altri paesi europei in fondo la questione è questa che una volta abolito il compromesso perché l'hanno abolito loro da soli facendo uscire questa sentenza del divieto dell'incostituzionalità dell'aborto terapeutico non ci si torna indietro adesso ieri mi sembra il presidente Polacco Duda ha scritto un suo progetto di legge per calmare le donne nel quale dice che allora bisogna modificare il compromesso e magari si può abortire quando danno è letale però lui per esempio per il danno letale non considera per niente la sindrome Down che come ogni medico che infatti la cosa più atroce che loro non chiamano i medici a parlare decidono loro che in 20% dei casi può essere letale dunque non è un metro di giudizio il danno letale o meno dunque questa proposta del presidente è stata del tutto derisa dallo sciopero nazionale delle donne ieri invece è nato il comitato consultativo dello sciopero delle donne che ha già presentato la lista dei suoi postulati che includono diritti delle donne diritti del lgbtq lo stato laico tribunali apolitici mediatori civici difensori civici e dei bambini perché adesso infatti ci sarà eletto il difensore civico dei diritti dei bambini pista presentando delle persone assolutamente atroci gestione della pandemia clima i diritti degli animali contro fascistizzazione per il lavoro per educazione per l'assistenza dei disabili e media liberi e assistenza alla psichiatria infantile dopo aver sentito questa lista di postulati che secondo me è il minimo indispensabile uno dei politici del PIS ha detto manca solo caviale e champagne e questo secondo me riassume perfettamente l'atteggiamento del governo nei confronti cioè di qualsiasi postulato che purtroppo si sta facendo e anche la loro sicurezza il loro carattere perché veramente non altrimenti non me lo spiego quando Marta ha parlato che nel 2016 nel 2018 per la prima volta sono uscite le persone giovani per le strade io devo ammettere che durante la protesta di venerdì scorso io mi sono sentita vecchia cioè per la prima volta ho visto ma veramente delle ragazze di 12 e 13 anni che protestavano di 14 anni dunque sono loro che poi perché fra tre anni ci sono le nuove elezioni cioè saranno loro a votare fra tre anni ed era una cosa veramente cioè commuovente perché io mi sono sentita della vecchia generazione perché durante le scorse manifestazioni quelli del 2016 quelle del 2018 diciamo cioè c'è stata la mia generazione e anche le persone più grandi però i bambini cioè nel senso i bambini c'erano i bambini per esempio dei miei amici di 2-3 anni non si vedeva adesso ci sono e questo elemento di rottura e questo elemento di novità è molto difficile da gestire adesso per il governo perché loro non hanno proprio cioè il governo non ha proprio il contatto con questa generazione perché operano sui livelli assolutamente diversi sia del linguaggio sia dell'atteggiamento e perciò nasce anche infatti questa rabbia perché a parte che lo sciopero cioè infatti come 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 lo slogan è proposto questo affanculo perché visto che non abbiamo ottenuto niente nel 2016 17 18 che poi cioè scusate ma ci avete preso in giro perché adesso durante la pandemia uscite con questa sentenza dunque adesso non saremo più educate non saremo più gentili e buone come le volte scorse che abbiamo anche cioè protestato considerando tutte le misure anti-covid non ci potete bloccare perché la rabbia adesso è troppo è troppo è troppo grande dunque adesso infatti c'è il fulmine c'è 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 affanculo protestano contro il bigottismo per la prima volta anche le scritte sono molto anti-religiose sono portate dai giovani perché anche la chiesa non ha lo stesso linguaggio è contro l'ipocrisia linguistica e questo è bellissimo perché adesso notano anche si nota anche la differenza proprio del cioè del discorso a livello proprio linguistico cioè loro parlano solamente di bambino concepito di peccato di infatti danno letale che poi non lo definiscono e invece 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 adesso le protestanti mostrano anche il bisogno di cioè di di volgarità di profanità cioè di distruggere quel sistema delle frasi fatte che c'era che c'era prima e mi è venuta in mente Mona El-Tahavi l'attivista americana canadese che si è innamorata infatti ultimamente di uno degli slogan cioè adesso scusate il linguaggio però lo devo dire se volessi politica nella mia vagina mi scoperei un senatore e lei si è innamorata di questo slogan e ha detto che finalmente cioè qualcuno realizza le sue le sue idee perché cioè lei sottolina da anni il bisogno di oscenità nelle proteste delle donne perché visto che il mondo è stato creato il mondo della politica e delle norme è stato creato dai maschi per i maschi le donne costruiscono un elemento di disturbo e questo elemento di disturbo visto che a questo elemento di disturbo vengono tolti i diritti elementari non può portare rispetto a chi li toglie non può stare calmo non può stare buono dunque deve in qualche modo rompere rompere lo status quo lo status quo e per diversi cartelli poi infatti vi faccio vedere le scritte quelle che ci sono perché sono bellissime a parte quelle che cioè per esempio perché questa non ce l'ho sulle foto ma per esempio ragione e sentimento mi caratterizzavano prima ora sono incazzata per citare Hamleto atto quinto scena prima verso 425 no Harry Potter e inferno delle donne dunque si vede che sono gli adolescenti che stanno protestando Kaczynski ti vuole baciare solo un dissennatore Kaczynski pensa che il racconto dell'ancella sia un libro di istruzioni sono assolutamente e ci sono anche quelle che si ricolleggano al mondo italiano che allora qui adesso faccio una magia dunque insomma se riesco a farla se riesco a farla allora dove Sherry Desktop ecco foto protest ecco mi si è bloccato tutto allora oddio si vede o non si vede non si vede allora devo riprovare ieri funzionava allora vediamo c'è qualche problema non mi fa condividere non so perché Susanna se mi dici il numero dell'immagine che vuoi mostrare tutte tutte proprio slideshow se puoi fare tutte questa è una cosa difficile che mi hai chiesto non ci posso provare no infatti ieri mi sembrava di aver capito come fare invece no sì ma probabilmente devi stai stressando un po' troppo perché vediamo il tuo desktop ma poi vediamo che si blocca ah ecco lo sto stressando troppo allora ma ci riprovo altrimenti provo a farlo io allora ci riprovo ma mi mi si no mi si chiude tutto poi ad un certo punto ecco allora file allora una prova a farlo tu già ci provo ci provo anch'io allora adesso si vede o no sì ora si vede si vede si vede dunque questo è il manifesto poi mio corpo mia scelta questo è c'è tipo Banksy polacco che sta fulminando il simbolo del peace queste sono le deputati della sinistra al parlamento venerdì scorso questa è la guerra la donna decide aborto legale diritti delle donne qua dietro qua dietro quell'uomo basso basso con la mascherina è Kaczynski che evidentemente c'ha paura delle donne che infatti gli chiedono del perché della della sentenza nel pieno nel pieno covid nel pieno di emergenza queste sono anche le deputate della sinistra che protestano al parlamento per l'aborto quella che parla è Marcellina Saviscia con un bambino suo in braccio questo è una foto di uno dei studenti perché uno dei giudici che della corte costituzionale è anche professore all'università e il giorno dopo della sentenza durante il corso della didattica a distanza si sono presentati ma tutti quanti con i manifesti e con 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 la protesta contro contro la sentenza e qui iniziano gli striscioni così è fatta la democrazia non camminerai mai da sola governo tribunale che il fulmine vi colpisca tutti affanculo il governo affanculo il tribunale affanculo tutti penso sento decido questa è una foto che insomma non richiede una spiegazione ovviamente il classico evergreen siamo nipoti delle streghe che non siete riusciti a bruciare questa questa la adoro perché anche in rima è presentata veramente dai bambini che dice che ogni bambino sa che quando fai incazzare una mamma diventerà tutto brutto cioè saranno insomma sono qui perché conto sulla storia con happy end questo allora non ho bisogno di un ragazzo perché peace mi fotte ogni giorno questo è il senso d'umorismo molto particolare cioè nel senso che peace copia anche al test di gravidanza il coraggio è contagioso distruggiamo questo governo e andiamo a fare l'amore questi i mem infatti della cioè della della dei dodicenni tredicenni libertà egalità vi pierda laità ecco questo il famoso if I wanted politics in my vagina allora questo è un inchino agli italiani siete peggio di un apero l'anacquato oppure un altro italiano prosciutto pro choice prosecco peace pensa che i genitali siano la compagnia italiana aerea sciopero delle donne anche anche questo in rima che aiutiamo la mamma durante lo sciopero non pisciamo nei pannolini io donna io suo fratello oggi cambiamo insieme il mondo e questo è anche un richiamo alle parole di Marta cioè ci avete cresciuto nell'amore alle insurrezioni e adesso siete sorpresi che stiamo scioperando questa è ironia pura cioè che loro non meritano neanche uno striscione vero poi tutta come vedete questa è la folla sotto questa Varsavia con tutti i striscioni questo è il tram donne siamo con voi questo la scelta non il divieto e questa invece la gendarmeria che protegge la chiesa di Santa Croce a Varsavia e questi sono i poliziotti che invece proteggono la casa di Kaczynski questa è Breslavia questa Varsavia non si fanno incazzare le donne questa è Varsavia Varsavia e Varsavia è venerdì sera e cioè posso solamente per finire posso posso dire che eh a parte il fatto che eh mi sono sentita veramente di una generazione generazione passata durante queste manifestazioni perché ehm allora la 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 cosa che 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 ha detto Marta che forse infatti fra tutti questi postulati come è stato ai tempi di Solidarnice che c'è la questione dell'aborto rischi di di perdersi questo è vero però eh quello che ho visto negli occhi di queste ragazze che stavano protestando era cioè era una determinazione che quasi quasi li invidiavo perché ehm cioè erano bellissime loro che adesso perché c'è anche una differenza di generazioni che probabilmente loro adesso a 15 14 anni sono come io sono stata quando avevo 20 anni cioè loro sono una generazione che ha fatto dei salti ehm dei salti tremendi con cioè con con tutto quello che hanno avuto a disposizione e secondo me con loro PIS non non vincerà così così facile solamente devono arrivare alla maturità e devono avere il diritto di voto però eh cioè io mi sono io mi sono commossa a venerdì cioè questo questo lo posso dire che infatti stavo con con una mia amica ci siamo fermate per guardare e ci siamo messe a piangere perché era cioè era una cosa a parte vedere tutte le persone che stavano manifestando ma soprattutto vedere queste queste ragazze insieme con gli amici perché c'erano anche moltissimi maschi non è che c'erano solamente le ragazze erano proprio i gruppi le classi che forse anche adesso durante la pandemia hanno anche una possibilità di stare insieme però se devi cioè se devi mettere stare insieme in un bar e invece stare insieme per strade a protestare per i diritti io direi veramente vivano vivano le manifestazioni così cioè io posso dire che è stato bellissimo e spero che che anche infatti un altro dubbio è quello di mantenere vivo questo entusiasmo e questa rabbia per i prossimi tre anni e questo sarà un grande un grande problema grazie grazie mille Susanna io aprirei immediatamente la parola per domande per un dibattito curiosità riflessioni buonasera salve io volevo fare una domanda che in realtà su un piccolo particolare che però mi ha incuriosito molto ovvero la presenza dei tifosi nelle piazze perché a quanto sapevo io in Polonia comunque i tifosi dell'Eghia cioè sono fortemente nazionalisti fortemente fascisti quindi questa cosa mi ha incuriosito poi in realtà la seconda osservazione era proprio sulle conclusioni ovvero il fatto che sicuramente le tante rivendicazioni che emergono dalle piazze possono far rischiare all'aborto di apparire in secondo piano però in realtà io credo che proprio dalla determinazione anche da quello che sto leggendo su internet l'intersezionalità di queste piazze sia in realtà molto forte forse questo può essere una spinta per guadagnare dei diritti sia sulle questioni dell'aborto ma anche su tantissime altre questioni come possono essere il lavoro l'ambiente e quant'altro Giovanni Sion Vai Allora per quanto riguarda i tifosi è stata una sorpresa assolutamente per tutti non sono ma è un po' il fenomeno che esiste anche in Italia che è poco conosciuto forse in altri paesi cioè gli ultra Giovanna ha dietro le spalle i cimeli di Osvaldo Pieroni che era tra quelli che aveva per primo credo proprio studiato questa tipologia di sinistra ora è un fenomeno largamente diffuso in Polonia però è successo a Varsavia e credo è successo anche in qualche altra città ed è come un segno e quello invece se che cosa io penso come del resto aveva bene illustrato Zusa parlando proprio di questa di questo passo nella corte costituzionale nel momento di pandemia e dunque di di divieto di assembramenti è il discorso di Kaczynski Kaczynski è il capo del partito è il presidente del partito che al governo lui stesso era stato in passato il primo ministro ma adesso fino a qualche giorno fa era solo un membro del parlamento e il presidente di questo partito qualche settimana fa ha assunto il ruolo del vice primo ministro cioè vice presidente del consiglio può fare quel che vuole cioè dunque che poteva diventare re se volesse ecco ha scelto questo ruolo prendendosi le deleghe della difesa della giustizia e delle la difesa della giustizia e gli interni io dicevo prima il disegno secondo me il disegno che porta avanti Kaczynski forse Kaczynski anche più in persona che tutto il suo partito è quella di una rivoluzione fascista o di una contro rivoluzione che va nella direzione del nazionalismo spinto e che usa la battaglia contro le donne per consolidare questo fronte di polachicità e cattolicità nel discorso che lui ha fatto un discorso ufficiale che ha fatto alla nazione dopo credo giovedì sera cioè prima della grande manifestazione del venerdì era la chiamata a mobilitarsi tutti come diceva Susanna giustamente alla difesa delle chiese ma non era solo questo mobilitarsi tutti contro quelle forze che vogliono sconvolgere tutta la storia della nazione polacca tutta la storia della nazione polacca ora queste forze lui non le ha definite alludono ovviamente alle anche potenziali forze esterne ma il fulcro è la battaglia ideologica contro le donne sul fronte abortista quello determinato organizzato in quella organizzazione Ordo Iuris dove a capo sta una tremenda Carolina Pavolska l'organizzazione che Susanna ha citato è una congregazione delle forze nazionaliste anti-abortiste mobilitate contro l'ideologia di LGBTQ e c'è dunque un rischio ripeto c'è un rischio che in tutto questo straordinario movimento le questioni fondamentali le questioni che sono scatenanti che è la causa di questo grande movimento di protesta venga diluito o messo così un po' da parte ecco questo volevo rispondere se posso aggiungere sui tifosi allora sui tifosi come ha detto Marta io ero molto sorpresa perché si tratta dei tifosi di Lech a Varsava di Pozna di Lech Pozna di Bia Westock che sono usciti anche con degli striscioni a favore dicendo che loro sono contrari al peace non alle tradizioni secondo me la partecipazione dei tifosi ovviamente non tutti perché anche lì si stanno schierando che per esempio un'associazione dei tifosi di Varsavia su Facebook ha risposto subito cioè l'amministratore ha risposto subito all'appello di Kaczynski quello di mobilitarsi e difendere le chiese e ha detto sentite domani andiamo a difendere le chiese invece i tifosi i membri di questo gruppo hanno risposto ma stai scherzando io sto con la mia donna io non faccio questo adesso la musica è cambiata adesso la situazione è diversa io sono per le tradizioni sono per la nazione sono per la mia squadra posso morire però sono anche per la mia donna e se la mia donna mi dice che lei adesso ha paura di rimanere incinta perché non c'ha anche la possibilità se questa sentenza verrà pubblicata non ha possibilità di diagnosi prenatale se lei non si sente sicura allora io in questo momento sto con la mia donna dunque anche la figura e mi ricollego di nuovo al discorso di Marta quello infatti della madre Polonia della donna sempre comunque su un certo piedestallo anche se non sempre però è la mia è sul piedestallo ed è questo però la partecipazione dei tifosi nessuno se l'aveva immaginata ma proprio nessuno grazie Susanna grazie Marta è collegata la collega la professoressa Jams Rosic spero di aver il cognome dall'università di Varsavia le dare la parola grazie grazie ho ascoltato con molto interesse sia Marta Petrussevic che siamo della stessa generazione mi ha fatto ricordare varie cose anche se non ho fatto la scuola con i gemelli che Susanna Cresnopolska che lei ha fatto italianistica vero? sì ecco sì sì mi ricordo quindi no io vorrei aggiungere soltanto due parole a quello che avete detto perché effettivamente quelli che protestano ora non sono vecchi come noi sono giovani e giovanissimi sono guardate io sono stata venerdì a plazzo cove cioè lì dove c'è la colonna del Resilismondo e effettivamente sono resa conto quanto diverse erano queste manifestazioni di quelle alle quali abbiamo partecipato noi e noi cioè appunto manifestazioni per la Corte Costituzionale per esempio ci sono state varie manifestazioni appunto quando nel periodo in cui il PIS effettivamente demoliva il sistema di giustizia in Polonia e all'epoca quindi erano manifestazioni di persone come noi e più giovani ma non giovani giovani diciamo quelli di 40 30 al massimo i giovani giovani non c'erano perché appunto questa la questione della Corte Costituzionale magari non gli interessava gli sembrava così astratta quasi come la Luna invece ora quando il PIS ha toccato alla questione dell'aborto la questione della gravidanza hanno visto questi giovani e giovanissimi che è la loro vita che è in gioco la loro vita il loro futuro la loro l'organizzazione della famiglia insomma e da qui quelli slogan che Susanna ha mostrato così bene mio corpo mia scelta perché si sono resi conto che appunto la scelta era loro e li toccava la questione della Corte Costituzionale e di quelle decisioni quindi è quello che volevo sottolineare perché mi ha colpito molto e ha dato la risposta a questa domanda che ci facevamo sempre insomma noi della generazione della prima solidarnosc perché con noi i giovani non ci sono perché per loro le nostre proteste di solidarnosc era come le non so come le crociate qualcosa del genere no quindi proprio perché loro vivono un altro mondo in un altro in un altro mondo in un altro sistema e anche guardate la stessa quindi è cambiata la stessa il modo di protestare perché appunto ora loro guardano i telefonini guardano i facebook non hanno un dirigente come nei tempi nostri che gli diceva che ci diceva ora noi andiamo a protestare seguiamo questa strada no loro a un certo momento hanno cominciato a camminare veloci veloci e mi sono resa conto che effettivamente era un altro tipo di manifestazione e quello che avete che Susanna ha detto molto bene le chiese erano molto protette da un triplo triplo cordone di polizia di difensori loro eccetera eccetera ma nessuno dei giovani nessuno ha gridato nessun slogan contro la chiesa si facevano tra di loro si facevano commenti ma guardate quelli lì no che fanno guardate effettivamente per loro era una cosa era una cosa strana questi canti religiosi davanti alla chiesa ma non si sentivano non si sentivano colpiti da questo più che altro li guardavano un po' come gente non so come alieni più o meno e un'unica cioè l'ultima domanda l'ultima riflessione che volevo fare è che questo e guardate il frutto secondo me è il frutto dell'introduzione dell'insegnamento religioso nelle scuole obbligatorio e quello che Marta Petrusevic diceva prima dopo l'89 la chiesa ha avuto tutto la chiesa ha avuto beni materiali la chiesa ha avuto potere sullo spirito e la chiesa appunto uno dei punti era l'introduzione della religione a scuola per chi era per chi era appunto favorevole alla religione in genere questa questa mossa era nell'ordine delle cose per chi come per esempio non so mio figlio non andava non seguiva questi corsi di religione veniva guardato male e poi non aveva teoricamente avrebbe avuto in quelle ore di religione di insegnamento religioso lui dovrebbe avere un corso di etica ma in pratica non c'era perché non c'era teoricamente non c'era un insegnante oppure le ore appunto erano stranamente queste ore di religione cadevano sempre a metà giornata della scuola non era mai non erano mai le prime ore o le ultime ore di lezione che i bambini i bambini i ragazzi potessero andare a casa e penso che questo insegnamento religioso introdotto nelle scuole in una che poi appunto è stato potenziato prima era un'ora dopo sono passati a due ore guardate due ore è tanto no? e poi appunto i giovani in queste ore di insegnamento religioso a scuola che cosa hanno visto? Hanno visto la differenza tra atto e parola hanno visto la differenza tra quello che il prete diceva e quello come si comportava effettivamente la chiesa l'avrete detto Marta l'avrà detto Marta l'avrà detto anche Susanna no? la chiesa ha tanto potere è ricca è ricca e se andate anche se in un piccolo centro in un piccolo paese della Polonia vedrete che la chiesa è tenuta bene e ricca quindi i giovani vedono la differenza e vedono anche quello che dicono ora i preti insomma avete sentito quello che è stato detto appunto la pedofilia poi gli atteggiamenti contro gli LGBT quindi tutto questo messo insieme fa sì che i giovani in chiesa andranno sempre meno forse non ancora vanno meno ma andranno sicuramente meno e qui io ho un nipote che fa la seconda liceo e lui a religione non va e dice che della sua classe all'inizio cioè nella prima di liceo c'erano tre persone su 36 ora nessuno quindi vedete le chiese dei giovani si svuoteranno e qui sono d'accordo con voi io sono molto fiduciosa appunto in questa giovane generazione sono molto fiduciosa perché loro hanno questa forza che in un certo senso noi abbiamo avuto nel nell'80 nei tempi di solidarno e sono convinta che prima o poi la Polonia cambierà grazie a loro e donne e giovani anche maschi avranno il potere che si conquisteranno proprio loro ecco vi ringrazio e mi scuso di aver magari parlato troppo ma proprio mi è piaciuta molto questa idea di fare questo incontro e poi mi scuso perché a un certo momento dovrò andare quindi mi lascerò comunque grazie grazie mille di essere intervenuta ci sono altre domande posso intervenire certo ok salve mi presento sono Stefania Mazzone io insegno storia del pensiero politico all'università di Catania ovviamente vorrei fare innanzitutto un paio di domande alle mie amiche che ovviamente conoscono la situazione e poi magari appunto capire se ci ritroviamo su un'ipotesi di analisi anche se fare le analisi sui movimenti è sempre molto difficile no i movimenti si devono vivere più che più che guardarli dal salotto però appunto forse ci può servire capire anche delle dinamiche la prima cosa che quindi vi chiederò voi che siete lì o che appunto come Marta conoscete bene la realtà vi chiederò di farmi un breve quadro se è possibile delle forze in campo cioè delle forze istituzionali in campo cioè se ci sono organizzazioni femminili partiti associazioni di lungo corso cosa cosa fa il femminismo tradizionale c'è cosa ne pensa ovviamente sarebbe da fare probabilmente un altro un altro incontro su questo perché adesso stiamo giustamente guardando le cose reali che avvengono e siamo contente che avvengano e siamo tutte come dire e invidiamo moltissimo voi che siete lì però forse se fossimo lì cominceremmo a fare distinguo e sbaglieremmo naturalmente su una serie di cose però ecco anche sulle parole d'ordine no scelte da questo movimento che appunto sceglie diceva Susanna sceglie l'oscenità mi piacerebbe capire se questo viene da appunto da un processo da una storia diciamo che fa parte del linguaggio di un di un femminismo magari degli anni 70 80 che potrebbe essere il nostro ma in Polonia non so come si sviluppava in quegli anni qualcosa so naturalmente ma ecco mi chiedo se c'è in questo movimento e quanto conta la storia del femminismo polacco tradizionale diciamo così o dei movimenti o delle associazioni delle dei come dire dei movimenti antagonisti di questi anni noi parliamo di Solidarnosc ma non c'è stato solo Solidarnosc ci sono state diverse formazioni antagoniste no come ci sono se ci sono dentro questo movimento e quindi le parole d'ordine di questo movimento da dove vengono se l'oscenità ha a che fare con un volere appunto marcare una differenza con la Chiesa cattolica perché mi viene in mente che appunto l'uso della parola oscena può disturbare disturbante come dice Susanna in un quadro però direbbe una vecchia femminista come me nel quale bisognerebbe un po' stare attenti perché l'oscenità è uno degli strumenti della logica patriarcale l'oscenità non è questo in questo linguaggio sceno non è il linguaggio del femminile ma è il linguaggio del maschile sul femminile ma insomma adesso non voglio dire questo però ecco vorrei capire come nasce rispetto alla tradizione dei movimenti e rispetto alla tradizione appunto politica del femminismo polacco e questa è la prima domanda la seconda è penso e questa è una mia idea mi sembra come dicevate voi che come diceva adesso l'amica che mi ha preceduto questo movimento molecolare no? qualcuno la chiama moltitudine è una moltitudine non è un movimento nel quale appunto ricordava chi mi ha preceduta le nostre manifestazioni erano guidate eravamo incordonati camminavamo marciando ecco noi ricordavamo la guerra cioè le nostre manifestazioni per quanto fossimo contro la guerra anche le nostre manifestazioni pacifiste finivano per avere un certo piglio diciamo appunto militarista un po' nel linguaggio un po' nella marcia un po' nel servizio d'ordine e insomma sono gli anni 70 anche con la fantasia che c'era loro invece appunto si muovono esattamente come una moltitudine scendono in piazza non sono incordonati non sono come dire organizzati pare che sia tutto molto spontaneo tutti fanno i manifesti tutti scrivono scrivono Tazebao non credo in qualche sede probabilmente ognuno lo scrive a casa sua questo ve lo chiedo ci sono sedi dove si scrive Tazebao o ognuno arriva con il suo ecco quindi diciamo che è la cosa che mi piace e che ci piace moltissimo di questo movimento c'è un movimento che ha più una configurazione di tipo anarchico nel senso assolutamente politico del termine e quindi moltitudinario e quindi diciamo ecco rispetto a come i movimenti oggi si manifestano vi chiedo appunto di confermarmi questa impressione a quel punto però ecco la preoccupazione in qualche modo velata e non di Marta su che fine farà l'aborto io la colgo subito anche nella domanda legittima e assolutamente condivisibile dello studente prima che giustamente vorrebbe fare pensa che sarà e probabilmente sarà di questo movimento un movimento globale cioè partiamo dall'aborto passiamo alla ecologia e al problema ambientale e via di e via di e diritti sociali la pandemia la crisi eccetera già posso immaginare come può evolvere che succede col femminismo cioè che succede col corpo delle donne no? ecco poi bisognerà stare attenti anche forse a che non si perda appunto questa motivazione fondamentale chiudo dicendo non mi sembra un caso che la motivazione sia il corpo proprio in epoca di pandemia mi piace molto quello che dice Susanna cioè questi in piena pandemia escono fuori difendono i loro di decidere sui propri corpi evidentemente decidono anche sulla propria salute nel momento in cui si mettono a rischio facendo una facendo queste manifestazioni oceaniche quindi diciamo mettono il proprio corpo in gioco e dichiarano che lo mettono loro in gioco giocosamente ecco neanche come dire con la drammaticità che si potrebbe immaginare no? io muoio per la causa ecco non sono neanche la strega che muore per la causa gioco e mando affanculo il mondo rischiando di mio questo non mi sembra poco ecco se avremo tempo poi di scrivere qualcosa su questo forse sarà il caso di capirlo meglio però abbiamo bisogno di voi che siete lì che ci raccontate anche i vostri corpi e io voglio dire a Susanna che ho immaginato la tua emozione le tue lacrime solo a vedere le foto devo dire io ho pianto ho sentito la pelle d'oca e ho pensato ovviamente come siamo abituate noi a pensare che se questo avviene in una parte del mondo avviene per noi e quindi grazie alle donne e agli uomini della Polonia ma spesso abbiamo detto grazie agli uomini e alle donne della Polonia grazie Susanna Marta prendete la parola autogestitevi beh io sul femminismo tradizionale Stefania non c'è il femminismo tradizionale in Polonia ovvero la Polonia ottocentesca la Polonia tra le due guerre aveva i movimenti delle suffragette i movimenti per i diritti delle donne per l'accesso alle università anche molto importanti ma erano i movimenti delle diciamo soprattutto anche se non esclusivamente delle donne colte c'erano sempre dei movimenti nei movimenti operai c'era sempre una presenza importante delle donne come lo è stata dappertutto però quel femminismo degli anni 70 e 80 in Polonia cominciava a arrivare da fuori portato da fuori e portato da fuori dalle intellettuali c'era come dire si cominciava questo la collega Iamrožik senz'altro lo può confermare arrivavano così degli scritti della letteratura dell'interesse dell'analisi ma il movimento femminista non esisteva non esisteva il vero movimento femminista le organizzazioni tradizionali delle donne quelle di regime del periodo comunista sono stati spazzati via dalla storia cioè non hanno nemmeno avuto quel percorso che unione delle donne italiane liberatasi come dire dal controllo dei partiti aveva portato avanti per un certo periodo no e dunque queste sono nuove queste non hanno madri non hanno delle madri riconosciute e in qualche maniera non per il momento sono una moltitudine e non ne hanno bisogno ma non è solo non è una moltitudine che vuole semplicemente scendere sulle strade è un moto di insopportazione non lo vogliamo sopportare più l'oscenità fa parte di questo non fa parte della tradizione polaca il linguaggio polaco quotidiano è abbastanza scurile ma questa scurilità è legata come dire alla visione di un maschio disoccupato o sotto occupato che beve dieci birre davanti al chiosco delle birre e parla appunto come si dice come un carettiere magari è un carettiere no questa oscenità è l'oscenità in pubblico è una cosa nuova ed è così dirompente così liberatoria perché è nuova e come dire credo che lo dicesse Susanna ma anche Iam Rojica anche Stefania è quella che vuole rompere quell'immagine imposta della madre polacca della donna sul piedistallo e di quella carina gentile che accetta tutto devo anche dire che lo spettacolo di quelli di questi ultimi anni c'è proprio uno spettacolo senza nessuna vergogna dove il il gruppo di potere è rappresentato da questo come dire culo camicia con la chiesa dove si danno questi soldi infiniti alla chiesa per qualunque iniziativa della chiesa e che sono così continuamente a fare delle messe a questi uomini del potere che proclamano la loro devozione alla chiesa cattolica questo include come abbiamo già detto più volte anche quelli dell'opposizione diciamo opposizione liberale opposizione centrista ma è sempre questo legame con la chiesa dove anche come alternativa si propone la chiesa diceva un'amica che credo ci partecipa come ospite Luzina Gebert diceva come è possibile che con questi due film molto importanti recenti sulla docufiction sulla pedofilia nella chiesa cattolica polaca pedofilia coperta dai vescovi arcivescovi e anche dal nostro santo papa polaco cioè le storie coperte le storie complicità tremende questi film sono stati visti da milioni di polacchi dopodiché non era successo niente ecco ora sta succedendo dunque importantissima questa questa cosa contro l'ipocrisia è molto importante il recente movimento di protesta contro le persecuzioni della cosiddetta ideologia di LGBTQ e questa è stata molto importante chi partecipa degli antagonisti tutti quelli che sono i gruppi antagonisti i gruppi alternativi partecipano partecipano in pieno gli anarchici i gruppi di organizzazioni alternative LGBT eccetera però la moltitudine non è organizzata da nessuno quello che possiamo riconoscere come forze in campo sono in realtà poco interessanti perché saranno comunque in questa fase non contano niente non contano niente cioè sulla destra c'è l'estrema destra che viene ora la destra diciamo squadrista viene ora mobilitata dalle invocazioni di Kacensky per la difesa dei valori nazionali e cristiani ma questi sono veramente degli squadristi dei teppisti e dunque è certamente una cosa pericolosa una cosa che bisogna guardare ma come dire non contano come nessuna proposta politica è una moltitudine che effettivamente mette come sottolineava Stefania e Susanna con la commozione mettono i propri corpi in gioco credo in parte anche con la spensieratezza di questa gioventù giovanissima cioè di questa giovanissima gioventù che dunque non vede le possibili conseguenze ma certo quando insomma ci sono alcune fotografie che fanno appunto vedere le mamme con i bambini o quelle persone anziane quelle che avevano partecipato alle insurrezioni alle guerre che vanno che vanno lì magari in sedia a rotelle però vanno lì perché vedono la difesa dei valori se posso aggiungere solamente per il femminismo in Polonia c'è solamente che anche le femministe dicono che il femminismo in Polonia è un raggruppamento di individui senza identità femminista perché ci sono moltissime organizzazioni che però non si trovano mai d'accordo non fanno cose insieme cioè per esempio la più grande è quell'associazione dell'otto marzo nata anni e anni fa allora anche molto legata alla presenza dei studi di gender in Polonia che sono nati alla fine grazie ad una professoressa di letteratura morta quest'anno Maria Janion che la diciamo la prima generazione delle sue allieve sono state le mie professoresse di letteratura al liceo dunque io sono la seconda generazione invece quelle ragazze che ci sono adesso per le strade sono la terza generazione di quelle che comunque potevano studiare gli studi di gender però questa è sempre una novità cioè c'è l'indirizzo all'università degli studi di gender però è collegata alla polonistica insomma sono alla fine insieme si può scegliere la specializzazione però alla fine è anche un indirizzo abbastanza di nicchia e di solito si fa questo e poi magari anche un altro indirizzo però è un tema molto giovane cioè Maria Janion l'ha portato e l'ha sviluppato poi il problema dei corpi è anche quello di divertirsi perché sì è un movimento di massa ballavano per esempio in un momento molto commuovente era anche il ballo tradizionale polacco la polonaise che è un ballo molto molto elegante ed è un ballo tradizionale ma anche della tradizione infatti di questi ragazzi perché lo si balla a cento giorni prima dell'esame della maturità è un grande evento dunque per loro questo ballo è anche un simbolo del loro arrivo alla maturità che magari noi adesso infatti stiamo diventando veramente adulti durante questa protesta e secondo me questo simbolo è bellissimo poi anche per i corpi non solamente mettere a rischio per via del covid ma anche io perciò ho solamente toccato il tema della propaganda anti lgbtq in giugno e in agosto però questo è un altro c'è anche un altro capitolo perché durante quei mesi la polizia è stata molto violenta e molto aggressiva contro i manifestanti io all'epoca ero in Italia e guardavo le immagini spaventatissima pensando infatti che la prossima volta quando ci sarebbe stata la manifestazione delle donne la polizia come si comporterà come farà perché la violenza nei confronti dei ragazzi perché anche lì c'erano i ragazzi veramente giovanissimi è stata tremenda è stata una cosa veramente cioè io sono rimasta rimasta veramente senza parole a parte che hanno anche colpito sono caduti tutti i denti ad un fratello di fratellino che io me lo ricordavo quando aveva 5 anni adesso ha 25 e l'hanno picchiato che ha perso tutti i denti per me infatti lui era sempre un bambino di 5 anni poi ho visto le foto è diventato nel frattempo un ragazzo di 25 anni ma picchiato così ferocemente e con tanta vehemenza dalla polizia che secondo me anche queste proteste adesso e il fatto di mettere a rischio il proprio corpo i primi giorni erano anche la paura per la reazione della polizia come si sarebbe comportata e l'appello di Kaczynski di proteggere le chiese e l'appello della polizia e la presenza della polizia intorno alla sua casa intorno alle chiese è stata anche secondo me un tipo di monito per i partecipanti manifestanti ma vi ricordate cosa era successo in agosto cioè noi siamo ancora qui e non si sa cosa succede per la presenza delle istituzioni ancora una cosa è che ci sono i politici dell'opposizione anche in questo consiglio consultativo che è stato creato ieri quello dello sciopero ci sono e stanno adesso però diciamo la lista è ancora aperta ci sono i politici quelli dell'opposizione quelli di tutti i movimenti come il comitato della democrazia che è stato creato qualche anno fa contro il governo del PIS ma diciamo che la lista per questo dei membri è ancora aperta perché cercano sia le persone con la storia e con l'esperienza dell'opposizione ma anche i giovani e infatti tutte le associazioni adesso studentesche dei giovani hanno mandato anche le loro proposte per i membri per non essere esclusi perché tutte la voce della protesta è anche contro il mondo dei vecchi cioè voi avete governato abbastanza non ce la fate dunque fateci strada proviamo noi che per esempio c'è anche sugli striscioni era l'unico uomo vecchio che posso ascoltare è Gandalf cioè è per per far capire cioè nel senso che la mia pazienza finisce finisce qui finisce con Gandalf gli altri non li voglio sentire scusami Susanna scusami se ti interrompo questa è una cosa molto importante che è veramente un'informazione straordinaria cioè tu dici che ci sono anche nei manifesti insomma nel linguaggio che si usa che il movimento usa c'è proprio una un confronto generazionale sì fortissimo fortissimo e c'è questa cosa del vecchio contro il giovane che si chiede sì perché questo affanculo è rivolto alle istituzioni alle persone cioè persone anche infatti questo è un segno cioè a parte il linguaggio e l'oscenità loro ce l'hanno usano anche infatti diversi diversi striscioni riportano le scritte che io non capisco cioè perché appartengono già al linguaggio loro di questi quindicenni che io non seguo io non li capisco che per esempio c'è non so che PIS oddio adesso non mi ricordo che PIS il partito PIS per esempio beve il tè con l'acqua dei ravioli cioè allora io questa cosa non la capisco però è un gioco di assurdità che adesso gira nel senso per cioè come il teatro di assurdo questo questa cosa che loro solamente è un loro linguaggio loro lo capiscono invece noi cioè io non lo capisco cioè anche per escluderci penso perché questo loro lo sentono proprio in movimento loro e questo è bellissimo però c'è ah e anche un'altra cosa che mi sono ricordata solamente per la storia del femminismo che li ombrelli perché rivoluzione degli ombrelli perché ombrello a parte nel 2018 quello per lo sciopero tutte contro la pioggia battente l'ombrello è un simbolo molto forte nel femminismo il femminismo polacco perché anche legato al al voto delle donne cioè nel 1918 le suffragette leggenda vuole che le suffragette polacche sono arrivate a casa del capo dello Stato generale Jusef Piusuzki per chiedere il diritto del voto lui le ha tenute al freddo e al gelo loro non smisero di battere contro gli ombrelli contro la sua porta lui convinto da sua moglie Alessandra Piusuzka un attivista una femminista aperto e li ha e li concede il diritto del voto dunque cioè questo ombrello comunque rimane sempre come uno dei cioè questo diciamo sono questi simboli cioè affanculo fulmine gruccia ombrello quindi alla fine la storia un po' c'è c'è una un qualcosa che tiene insieme un po' c'è forse inconsapevolmente forse inconsapevolmente io penso che Susanna un po' esagera questo scontro generazionale è semplicemente una nuova generazione che è un po' senza madri e padri però abbiamo visto su parecchi manifesti di questa rivolta il richiamo a solidarno anche con il fulmine però su l'immagine delle donne e degli uomini giovanissimi schierati che formano il segno di solidarno ed è un po' anche giocosa questa cosa cioè questi noi siamo chiamati boomers dal fatto dei baby boom però i meriti alcuni ci vengono riconosciuti come anche un richiamo al 1968 cioè alla massiccia protesta degli studenti cioè nostra proprio nostra che era stata insomma distrutta in una maniera vergognosa perché anche insomma non solo con la repressione immediata ma con l'istituzione ancora che confermava quel nazionalismo quella quella svolta nazionalista polacca ma c'è un richiamo al 68 in che cosa si distingue 2020 e dal 2018 cioè dunque sì via lì i vecchi ma questi vecchi qui allora ci avviamo verso la conclusione ma abbiamo tempo ancora per una domanda due domande più che una domanda Giovanna buonasera sono Maria vorrei intanto ringraziare Susanna perché mi ha regalato veramente delle emozioni incredibili quindi ti ringrazio e ovviamente Marta che conosco e seguo da sempre quello che ti devo dire mi ha mi ha fatto proprio sentire i brividi no e questa differenza tra la generazione di giovanissimi e giovanissime polacche e quella di giovanissime giovanissime italiane io sono mamma di un quindicenne e di una undicenne o perlomeno come li consideriamo noi o come vengono considerati perché invece io sono totalmente dalla loro parte loro hanno solo bisogno di avere spazio i nostri dico i nostri giovani se vogliamo dire italiani nel senso che vivono in Italia e vedere che giovanissimi invece spingono anche con l'ironia per guadagnare spazio laddove forse noi di una certa età e alcuni un po' più in là sono troppo presenti quasi ingombranti mi fa sperare bene per i giovani di casa nostra in particolare della Calabria lo sai bene visto che tu conosci l'Italia la frequenti che da noi giovani vengono considerati vengono considerati meno che nulla cioè della serie vabbè tanto sono una massa di netti sono solo bloccati alla playstation non capiscono nulla di politica non si impegnano sulla mia pelle io ho provato che basta dare a questi ragazzi a queste ragazze la possibilità di fare e loro ti stravolgono e assolutamente tengono conto della storia perché io credo che ok sì vogliono fuori i vecchi ma i vecchi barrucconi cioè quelli che rompono quelli che creano quelli che creano problemi ma i vecchi tra virgolette che hanno fatto la storia e che hanno portato a loro anche il DNA no della della lotta seppur a questo punto simpatica loro invece lo apprezzano e lo stimano e quindi questa cosa mi dà speranza mi fa credere che invece i nostri giovani giovani del pianeta siano molto molto meglio di quello che ci vogliono far pensare molto meglio di quello che le classi dominanti ci propinano non capiscono niente di dobbiamo educare no anche questo fatto che si muovono come una moltitudine bellissimo senza un capo e una coda per me è un sogno quindi io vi ringrazio era solo un intervento ricco di emozioni sono contenta che ci sia tutto questo e mi auguro che dilaghi in lungo e in largo questa grossa forza e voglia di cambiare le cose che ci stanno strette rispetto alla religione cattolica l'Italia non è molto meglio e l'Italia del Sud in particolare che noi i figli che non fanno religione non fanno null'altro mio figlio viene lasciato in una stanzetta a non far nulla sostanzialmente quindi non fa niente di altro o di funzionale anche a non fargli perdere un'ora della sua vita così come il discorso diciamo legato anche alla gestione di queste di queste scelte o di queste attività è un discorso lungo ma siamo molto molto più simili di quello che poi in verità immaginiamo anche perché anche perché per esempio il discorso dell'aborto no tu considera che a Cosenza quasi tutti i medici le ostetriche sono obiettori di coscienza quindi addirittura sono loro che scelgono sulla tua vita sono loro che obiettano se tu decidi di avere un abbocco di qualunque natura scelta terapeutica o meno quindi come vedi non si dice ma da noi i limiti ci sono e sono anche pesanti e sono grossi e c'era stata anche una campagna proprio legata all'ospedale di Cosenza grossa seria su dieci medici nove sono obiettori di coscienza per cui ti deve come dire ora oscellità per oscenità ti deve dire culo cioè se vuoi andare lì e decidere di fare un'interessazione di gravidanza ti deve andare proprio bene quindi grazie mille sono felice di essere qui e di partecipare a queste a queste come dire a questa moltitudine di informazioni grazie grazie Maria ho visto che sono accese delle videocamere non so se questo significa che si vuole fare qualche domanda allora se non ci sono altre domande io spero insomma che ci rivedremo anche nelle prossime settimane perché vogliamo gli aggiornamenti vogliamo capire cosa sta succedendo e se ci sono dei cambiamenti anche nel breve periodo quindi questo è un picatto che faccio pubblicamente a Marta e a Susanna di tornare a trovarci cosa allora ho esordito chiedendovi anche di darci delle indicazioni per mostrare concretamente materialmente la nostra solidarietà e la nostra vicinanza pur nella consapevolezza che come diceva Maria molti problemi sono comuni le risposte magari possono essere diverse perché le congiunture magari sono diverse quindi è sicuramente importante risentirci concretamente che cosa possiamo fare? Ci date delle indicazioni? Ma quello che si può fare è quello che hanno fatto già molti polachi e polacche all'estero con il sostegno e la partecipazione di non polachi che sostengono la causa è quella di fare beh laddove ci sono le ambasciate polacche o i consolati polachi ci sono state delle manifestazioni ma una cosa che funziona benissimo è quella di prendere un pezzo di cartone come diceva insomma una di queste voci qualcuno diceva io adesso consumo una quantità enorme di pizze per ricavarne quei cartoni prendere quel pezzo di cartone disegnare sul cartone la saetta cioè il pulmine il pulmine rosso e scrivere qualunque slogan su questo che sia qualunque parole d'ordine che siano di supporto c'è questa parola di pierdalac che viene transliterata in tanti modi però anche delle parole d'ordine tipo il coraggio è contagioso oppure l'aborto è un diritto questo l'ho assunto io l'aborto è un diritto e non un privilegio o tante altre cose e mandare queste fotografie cioè metterle come dire inondare i social e poi ci saranno probabilmente ma questo verrà fuori man mano se queste cose continuano e se ci sono gli arresti e le cause allora ci sarà una raccolta di fondi ma in questo momento credo che la cosa più importante sia manifestare la solidarietà usando questi simboli ma gli slogan quelli che si vuole cioè non c'è nulla di prefabbricato e tutto quello che è stato fabbricato in questi giorni è un'esplosione di creatività assolutamente incredibile Sousa citava a un certo punto quell'uso della letteratura che ci sono le citazioni di Winnie De Poe piccole donne insomma tantissime di Amleto di tantissime tantissime citazioni letterarie vi potete sbizzarrire chiunque si può sbizzarrire la saetta è facile da disegnare il pezzo di cartone da ogni pizza una scatola di smessa forse Marta forse dobbiamo comunque come dire adeguare lo slogan perché la saetta nel linguaggio comune in Italia è stata molto molto utilizzata dai centri sociali ed ha un significato preciso quindi per associarla invece a questo movimento occorre creare o mettere giù uno slogan che lo leghi perché la saetta per i centri sociali ha un'idea precisa è un linguaggio che si è usato tantissimo negli anni 90 quindi perché no Susanna per le conclusioni solamente volevo aggiungere che infatti la raccolta dei fondi è stata già aperta perché quando sono iniziate tutte le manifestazioni loro volevano essere già preparati infatti sapendo della violenza della polizia prima dunque c'è questa raccolta fondi per gli avvocati che a parte che gli avvocati che ci sono 150 studi degli avvocati in Polonia che hanno offerto i loro servizi gratuitamente pro bono per tutti e tutti gli arrestati però ovviamente se qualcuno poi non comunque per ora infatti sono coperti per esempio a Varsavia venerdì sono state arrestate solamente 37 persone cioè che non è tanto paragonato ad altre manifestazioni solo questo allora a nome di tutti e di tutti ho un grande ringraziamento a Marta Susanna tutte le persone che sono intervenute in particolare agli studenti e agli studenti che sono rimaste ben oltre l'orario di lezione manifestando un interesse evidentemente per queste tematiche consideriamola una prima puntata di un discorso avviato e grazie ancora e a prestissimo grazie a voi ciao 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 ciao